ma la lavagna metti la pomera no cacchio e david non è la prossima quella dopo ancora la prossima che è che c'è la prossima c'è alessio gavio e new spared quelli ho detto dite sì e mister nerozzi mister nerozzi quello dopo insieme a nerozzi tenga duro tenga duro nerozzi allora gavio c'è alessio 38 fili ci sei e anche davide gracco bravi ragazzi grazie 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 che aspettate nel suo gruppo david c'è c'è nerozzi e nicola salsi lancia patate noi l'abbiamo mangiata ieri la pizza è molto buona direi pallino calmo non farti del male con lancia patate perché tu sei un pirma e ti sparirà solo con lancia patate si lancia granate non ti piace david? no scusa ho detto granate e lancia razze scusa però si ho detto una cazzata si 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 ma era fuori dove fuori 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 si è ucciso quanti gruppi ci sono ancora che uno si comincia? eh io prendo prenotazioni fino alle 7 se nessun altro si prenota ci sono ancora uno eh? due tre gruppi c'è uno dentro in casa con me? si no dai via sei tutta bagnata Zoe l'altro ce n'è l'altro ce n'è si la Zoe la Zoe la Zoe è brutta è brutta adesso mi lavo poi faccio pizza e poi evito la partita con quellino buon bravo si ma Dede la butta fuori prima di noi eh vabbè bravo c'ho bravo Dede complimenti vai Dede vai tranquillo buono ragazzi è buono ragazzi è buono ragazzi ciao giochi ciao benvenuto va bene che se vuoi Giacchina accendilo e ragù ma è il fuoco ecco l'altro ops ops anche mi fa ops oh ma quanto l'odio la persona eh si è tua figlia eh ok se avete razzi ragazzi sono qua è il fuoco è il fuoco io vorrei andare a vedere in quella casa da giù cosa c'è in quella stalla adesso ci posso portare via solo sei bombe al colpo un po' con me ah non so se io stavo voglia ora è già stato cliccato spari maniate il ragù no sta preparando il ragù per sabato sera quando arriva la staff la neuro perché facciamo un menù apposta per loro chi vuole sapere il menù? chi lo vuole sapere il menù? se lo offri tu il menù pure Mogra dice se lo offri tu Mogra sei il benvenuto dove sei Mogra? no eh siete un po' distantini ragazzi di dove sono? eh del sud eh Molise allora gli facciamo fare lo spritz tour partiamo da da Seravalle praticamente che quindi già vuol dire che arriveremo a casa già intopolati no? facciamo vari bar facciamo degli aperitivi poi faccio un antipasto che sarà la polentina bella morbida praticamente sarà così sopra del gorgonzola fuso e sopra ancora ci saranno i funghi poi di primo faccio il pasticcio cioè? e di secondo ci sarà il coniglio con la peverada no salsiccia astra vieni qua prenderti il coniglio con la peverada e dolce e patate e patate al suono e dolce e il tiramisù vediamo che spacco la cassa vediamo cosa vi da la pistolina blu vedi? la pistolina ti può piacere? diveto? come menù vi farò la foto ai piatti dai se ce la faccio se non ho bevuto troppi spritz si ma sai dopo te che mi fai fare uno spritz tour io poi non sarò più in grado di cucinare dalle sette in poi no in modo da poter poter eventualmente ricominciare la lista insomma no fino alle otto no fino alle otto e dieci perchè hai goduto perchè c'è rotta la lavatrice? no mi distruggo io se faccio fino alle dieci ho fatto stamattina ho fatto sto primo pomeriggio eeeh le picci noi non ce n'iamo ragazzi a me i punti non me li conta più come non ti conta poi i punti ma ci ho slasho punti ma manco mi risponde il vol porco cane ragazzi che cechinata ok Elia va bene ce l'ho anch'io mi fa l'interrogatorio giochi eeeh ovest sud ovest ovest sud ovest circa ok adesso lo vedo adesso lo vedo alessio gabio sono i due sono i due e cracco teneteli pronti mamma mia oh oh hai stato un piccolo sbaglio aiaiai ciao 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 grazie qualcuno che mi ha provato a cechinare ragazzi di brutto da dove però l'altro team se volete la ricarico no dede tranquillo vai un attimo fammi un attimo ricaricato tutto scoglie troppa linea per fare bella finura e per galanteria ho aiutato la mamma e la mia ragazza a raccogliere l'acqua che bravo eh ce ne sono anche dentro la del coso ragazzi dal driving uno dietro la roccia il driving la dove ho pingato ti sei ricaricato suonando l'ingegno un cecchino dove ho pingato ragazzi eh ok ok quando ho il tuo turno io ti chiamo ti rispondi bene se no perdi il turno si bravo mongre ci sono i medici ci sono i medici si uno sotto ok ma che pagati ma che pagati troppi ah ma io ah ma il cecchino c'è ancora ragazzi qua sotto ho detto che c'è no no ce l'ho lasciato io non so ok pensi così caro dai però dai oh medici ti ho per voi i due scottili eh è arrivato arrivederci provo a vedere cosa che c'è da questo un attimo come il lutto questo scendine non è che c'è una barca qua in zona non ti credo che vieni mamma non ti credo che vieni a neve ma dai non ti credo che vieni a neve due volte mi hanno cechinato a me due volte mi hanno cechinato abbiamo uno di fronte a noi la così la sopra avete capito ragazzi ce n'è uno della sua a sinistra attenti vabbè Marco astra in caso ho il medikit per te tranquillo sei vicinissimo eh Marco ma tu lo conosci di persona eh di sì che anche lui è pugliese Marco lo hai mai visto che brutta situation ma lo segui? io pure so pugliese e tu l'hai visto? rdt? non hai visto? ho due scildini qualcuno ha un medikit morto ok ho un medikit io ho due scildini venite qua e ve li do a tutti io ho due ne avevo le scildini eh perso già è tanto perché il pallino comunque è in armi te ne do ancora uno qua ciao Daxon ciao cosa è successo medikit mi ha fatto così me li porto mi ha il telegiornale su youtube no er di chi non è mai andato il telegiornale mi do un medikit su youtube si mi ha il mio youtuber ma vedete col pirazzo ragazzi c'è gente qua c'è gente qua hai già giocato il tuo porta pacienza questa mattina la domanda è piaciuta che mi ha stato è un bot è stata ma un giorno altri medikit qua medikit e cildini si oh mio dio giochi prendo io si è preso avanti qualcuno la razzi grazie e cosa non è che ti ha aggiornato do my safe band la ottima se volete io ho spazio per le band wow wow zackson grazie dovevi dirmi zackson cioè tu hai visto fa dj e non gli hai detto prova ad andare a vedere pallina 83 zackson sei scandaloso per questo potrei bannarti buona guarda la pallina bello 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 quel file si nicolas 31 pallina ha studiato poco perchè divetto perchè 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 il divetto ha studiato poco è troppo difficile la copertina ora la metto come sfondo le dici ciao noobs ciao benvenuti in live ora non ci andiamo lo stesso eh ragazzi è 4v1 ragazzi 4v1 4v1 ragazzi sei scandaloso ragazzi siamo 4 contro 1 come mai in scuole chiuse giochi c'è 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 il dj tranquillo vado la butta fuori sul canale giusto io si c'è 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 ma è Rdt? ma è Rdt? ma è Rdt? è Rdt è andato al telegiornale quali non lo spaccai sono l'avvocato Ma adesso trovi la puntata anche su internet, solo David in caso me la mandi. Allerta meteo ancora giochi in Sardegna, oh signore. Muori! Sì! La seconda!